infissi legno alluminio anti effrazione sono sicuris ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema bisacchi gli infissi legno alluminio è possibile costruirli anti effrazione e per fare questo occorre equilibrio come dico sempre in tutte le cose all'interno della casa e nella casa stessa l'equilibrio vuol dire fare una ferramenta anti effrazione che vada a chiudere su tutto il perimetro occorre che il fissaggio di questo infisso venga fatto in maniera più sostenuta più robusta rispetto a un infisso normale perché altrimenti due botte nel vetro e che cade giù la finestra e soprattutto il vetro che sia un vetro di sicurezza con il giusto equilibrio della classe di resistenza con la ferramenta ad esempio se faccio un serramento e antifrazione legno alluminio in classe 2 resistenza classe 2 anche il vetro dovrà avere quella resistenza che nel vetro si traduce in una resistenza p4a qui entriamo in un mondo di sigle e di codici quasi geoglifici incomprensibili dove avere un consulente che ti guida nella scelta giusta e nell'interpretare i preventivi che ti sono stati fatti sono corretti o meno è la cosa migliore il problema qual è che questo consulente quando vai a chiedere i preventivi al venditore che deve vendere quindi c'è un evidente conflitto di interessi e per questo motivo e anche perché non posso aiutare tutti i clienti in giro per l'italia infatti come bisacchi serviamo solamente la romagna ho creato questo servizio di consulenza con sistema bisacchi dove posso aiutare chi come te ha bisogno di una mano per trovare qual è la soluzione migliore se vuoi sapere di più vai su www.blogbisacchi.it e richiede la tua consulenza personalizzata ma fai attenzione perché dedico solamente quattro ore alla settimana e a questo servizio i posti sono molto limitati ciao e al prossimo video